Scendiamo verso la fine del mese di aprile, le elezioni sono sempre più vicine, la gente ne parla e ne discute con maggiore insistenza, i confronti si mantengono per ora sui binari della correttezza del vivere civile. Niente fuochi accesi almeno in superficie, se continua così andremo alle urne senza rancori o vendette da perseguire, ma sereni e convinti di scegliere il meglio per cercare di risolvere i bisogni della città. Intanto continuiamo a parlare un po' più concretamente di campagna elettorale. La campagna elettorale inizierà fra pochi giorni con la presentazione delle liste, noi l'abbiamo voluta un po' anticipare con una campagna d'ascolto, con un'iniziativa che Emanuele Pepa ha voluto portare avanti, che è quella di quartiere protagonista, cioè siamo andati in tutti i quartieri ad ascoltare quelle che erano le esigenze e sono venute fuori molti aspetti, sicuramente è venuto fuori il fatto che in questi 10 anni non c'è stato ascolto da parte dei quartieri. Dicevo sono andati fuori molti aspetti che faremo proprie e metteremo all'interno del programma, pronti quindi per andare in campagna elettorale con le idee chiare e con quelle che sono anche le esigenze dei cittadini. Ci sono dei punti particolari in questo programma? Certamente, l'esigenza più grossa è quella rappresentata dalla viabilità, è quella rappresentata dalla sicurezza, cioè c'è necessità di una maggiore sicurezza in questo nostro territorio, c'è la necessità di una viabilità più snella, una viabilità che faccia in modo che chi deve spostarsi da Macerata ad Ancona, da Macerata alla costa, non debba necessariamente attraversare tutta la circonvaluazione perché è una parte di traffico che alla fine rallenta e crea ingordi. Dicevamo appunto sulla sicurezza, sulla necessità di far sì che la rete di telecamere fosse un po' più, diciamo così, dettagliata e soprattutto che quando succede qualcosa le telecamere possono funzionare perché tante volte sono successi episodi dove le telecamere non hanno funzionato e l'adeguamento dei digitali urbani, cioè non è possibile che una città come Recanati che ha 20.000 abitanti, forse qualcosa di più, abbia un organico di 13 elementi. Bisogna assolutamente sforzarsi ad adeguare l'organico dei digitali urbani almeno a 20 unità. Che tipo di confronto elettorale sarà? Ma sarà un confronto elettorale sicuramente aspro, in me lo spettro dei toni aspri, perché c'è un'amministrazione che esce, perché sia Fiordomo che Braga hanno fatto parte di 15 anni di governo della città, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e c'è una, diciamo, controparte che legittimamente si cambi a rappresentare la città, si cambi a rappresentare con autorevolezza, con capacità, con professionalità. Nella nostra squadra ci sono giovani, imprenditori, commercianti, persone che hanno esperienza, persone che vogliono fare esperienza, che si vogliono mettere al servizio della città. Noi possiamo garantire che non inquineremo il clima elettorale. Noi racconteremo, diremo alla gente quelle che sono le nostre idee, le nostre iniziative, quindi non cederemo a quelle che possono essere provocazioni. Ci auguriamo che anche dall'altra parte ci sia questo. Si avvicina allora il giudizio dei cittadini. Le più o meno specchiate virtù dei tre candidati diventano di dominio pubblico. Non passa giorno che non si sentano vocine appena sussurrate che alzano o abbassano le quotazioni di questo o quel candidato. Se va avanti così tutto bene, senza insulti, astio o rancore, sarà un voto tranquillo ma decisamente tosto nel suo significato. Poter decidere infatti con serenità il modo migliore per favorire una scelta buona e sicuramente utile al futuro della città.